Clash Royale Può sembrare una grandissima cavolata ma come prima cosa ho scelto quel dubbio di molti giocatori che dicono come mai le coppe del clan sono inferiori a quelle che in realtà i giocatori hanno? Bene ragazzi questa domanda non è semplice da rispondere perché effettivamente se voi guardate ad esempio il mio clan Royal Italy dove siamo 41 persone dice che il clan ha 24.267 trofei Però se voi andate a vedere anche solo i primi 10 facciamo un calcolo molto veloce 3000 più 2000 insomma 3000 e 3000 sono 6000 e altri 3000 9000 e altri 3000 non so 12 15 18 più o meno ragazzi è un po' approssimato quindi 18 21 insomma basta guardare i primi 10 e già abbiamo superato i 24.000 Allora uno si chiede come mai come mai tutto questo? Bene ragazzi dovete sapere che c'è un calcolo ben preciso per questo e io l'ho fatto e adesso vi uscirà il calcolo da fare come immagine sul video E vi farò anche uscire l'immagine del calcolo del mio clan che è stato fatto per la precisione ieri infatti il gioco è in continuo aggiornamento infatti c'è stato già qualche trofeo in più Perché ad esempio io ho fatto appena il mio record dei 3427 trofei e quindi automaticamente anche il clan aumenta Allora ragazzi il calcolo è questo come lo state vedendo sulla schermata si fa i primi 10 giocatori del clan quindi questi le prime 10 posizioni si sommano e si fa il 50% Quindi è semplice basta sommare tutte e 10 i componenti le somme dei 10 componenti e fare la metà quindi diviso 2 e vi esce il primo step Poi ragazzi c'è il secondo step che parte dall'undicesimo fino al ventesimo e si calcola il 25% Per chi non fosse una cima in matematica basta fare per 25 diviso 100 tutta la somma delle coppe Poi ragazzi per la terza sezione si va dal ventunesimo al trentesimo e qui abbiamo una percentuale del 12% quindi come vedete stiamo andando a scalare sempre di più Mentre dal trentunesimo al quarantesimo abbiamo una percentuale del 10% E poi ragazzi dal quarantunesimo fino al cinquantesimo player che quindi sono gli ultimi 10 del clan c'è solo solo e dico solo il 3% Quindi ragazzi adesso noi siamo ad esempio 40 persone nel clan se se ne aggiungono altre 10 influenzeranno veramente pochissimo perché il 3% è una grandissima stronzata Allora adesso vi farò uscire anche il calcolo del mio clan proprio di questo clan e voi se non ci credete potete benissimo fare questi conti come ve li ho appena spiegati Infatti io ho calcolato la somma dei primi 10 l'ho divisa per 2 e mi esce 13769,5 Questo già fa capire che quindi arrivavamo a 26.000 trofei Poi ho fatto il calcolo dall'undicesimo al ventunesimo cioè al ventesimo Io ve li scorro piano così male che va stoppate il video e potete fare il calcolo voi stessi se non ci credete oppure fatelo con il vostro clan E ho fatto il 25% e mi esce 5.891 Così l'ho fatto anche dal ventunesimo al trentesimo e mi esce 2624,04 L'ho fatto dal trentunesimo fino al quarantesimo e mi esce 1867,1 Quindi come potete ben capire scala di molto E arrivare fino alle ultime posizioni che erano solo il 40 e il quarantunesimo Dove ho fatto il 3% e mi esce un 84,24 La somma totale che è stata fatta ieri di tutte le coppe del clan risulta essere 24.235,88 Giustamente se andiamo a guardare già oggi ci ritroviamo con 24.267 Quindi da 35 a 67 siamo aumentati di ben 32 trofei E la cosa credo che sia di pesa maggiormente da me essendo che sono il primo cioè tra i primi 10 E quindi essere aumentato più o meno di 100 coppe la metà quindi 50 coppe in più Quindi questo qui è più o meno il calcolo Giustamente qualcun altro le avrà perse, qualcun altro le avrà vinte quindi è tutta una questione di squadra Ragazzi spero che questo dubbio per chi lo avesse ovviamente lo sono riuscito a levare Naturalmente mi aspetto dei commenti Mi aspetto che mi chiedete e mi fate domande anche su altre cose Su altre cose che non sapete su Clash Royale E ragazzi io come Arciato vi ringrazio Mi raccomando iscrivetevi, commentate e ci vediamo con il prossimo video Grazie